Sette mesi che non fa sesso con suo marito. Ho parlato con suo marito stamattina e... era un uomo, non dico disperato, però giustamente, con una motivazione, uno spiega, parliamone, come mai? Cioè, se ha qualche problema, non può dire. Eh, vede dottore, io sono sette mesi che vado a lavoro in taxi. Beh. Non ho i soldi per pagare la corsa. E allora l'autista mi dice, cosa fa signora, paga o cosa? O? Cosa. E allora io... Ah... Scelgo la seconda alternativa. E poi arrivo tardi al lavoro. E allora il mio datore di lavoro mi dice, che faccio, trattengo lo stipendio o cosa? Pure il luogo di scena. Ed io cerco... o cosa? E poi torno a casa in taxi, di nuovo rientro, no? Eh sì. E allora il tessista mi dice, signora, che fa? Paga stavolta... o cosa? Allora, scelgo... o cosa? All'andata, la seconda alternativa. Eh, perché capirà bene che comunque quando arrivo a casa sono bella stanchina, no? Per farlo ancora. E va bene, non so signora, questo fatto, diciamo, lo dico a suo marito o cosa? Sì, è che d'accusa, no? che cos'è?